Ci sono tantissime cose da dire riguardo Cagliari-Fiorentina che è terminata 5-2 in favore dei Sardi, grandissima partita del Rosso-Blu che davanti al proprio fortino, davanti ai propri tifosi non sbaglia mai. 5-2 del Cagliari che vola al terzo posto ma bisogna ancora aspettare le partite della Roma, della Lazio e della Dea dell'Atalanta però intanto il Cagliari c'è, il Cagliari rimane in quella posizione che non era pronosticabile alla vigilia di questa Serie A 2019-20 però il Cagliari rimane nella terza posizione e si dimostra una grandissima squadra, una grandissima sorpresa soprattutto di questo campionato. Il Cagliari diciamo c'è, il Cagliari c'è e vuole restarci. Rosso-Blu che veramente fa una partita spettacolare anche per quanto riguarda il palleggio, il Cagliari ha dimostrato di saper palleggiare molto bene e di mettere in difficoltà una squadra diciamo che può essere considerata una big italiana come la Fiorentina anche se la scorsa stagione non ha fatto bene la Fiorentina però i viola sono comunque considerati una squadra tra le big italiane. Però il Cagliari ha fatto addirittura 5 gol facendo una grandissima partita ovviamente concedendo qualcosa nel finale. La Fiorentina deve ripartire proprio da quei due gol di Vlaovic nel finale. Tra l'altro il secondo gol è dettato anche da calo di concentrazione del Cagliari soprattutto di Pellegrini che porta palla, porta palla un po' troppo e perde palla. E l'azione della doppietta di Vlaovic nasce da lì. Però comunque il Cagliari tutto sommato che fa una partita devastante, una partita devastante soprattutto nel primo tempo, nel primo tempo dominio assoluto del Cagliari che fa 45 minuti nella metà campo avversaria. Però Nainggolan veramente spettacolare, Nainggolan è rinato, Nainggolan si vede che col Cagliari si trova bene, ambiente che sicuramente lo coccola. Però oltre questo Nainggolan si è ritrovato diciamo perché con l'Inter non aveva fatto una delle sue migliori stagioni. Però adesso col Cagliari, tra l'altro col Cagliari ci aveva già giocato, è tornato il belga, il ninja Raja Nainggolan che fa 3 assist e un gol spettacolare. Il gol del 5-0 segnano anche Simeone. Pisa cane da calcio d'angolo su assist di Luca Cigarini, un altro giocatore che sta giocando molto molto bene col Cagliari. Quindi grandissimo regista, inizialmente il regista aveva impiegato quel ruolo Raja Nainggolan, poi successivamente diciamo che anche con l'infortunio, col breve infortunio di Nainggolan, giocò Cigarini in quella posizione. Cigarini, adesso titolare inamovibile ovviamente, grandissimo giocatore. E poi, ripeto, segnano anche Simeone, Pisa cane, e poi ragazzi veramente grandissimi gol, tra l'altro che sono stati fatti, anche il gol del 1-0, grandissima azione finalizzata da Marco Lino Rogg. E comunque ragazzi, tantissimi gol, tantissimo spettacolo, partita pirotecnica assolutamente alla Sardegna Arena. Con un Cagliari che si dimostra di essere una grandissima squadra. E secondo me non è finita qua, il Cagliari secondo me terminerà la metà della stagione, ovvero il giorno è d'andata, almeno in Europa League. Però questo Cagliari è da Champions, lo sta dimostrando, centrocampo veramente pazzesco, mostruoso, con Rogg, Cigarini, Nandez, Nainggolan, veramente devastanti. E anche tra l'altro con il gol di Joao Pedro, grandissimo gol, anche di Joao Pedro che in casa è una garanzia, in casa segna sempre. E veramente grandissima, grandissima partita la Sardegna Arena a Cagliari.